Perché? Cosa? Perché non sei interessato a me? Davvero lo vuoi sapere? Da solo non ci arrivo. Va bene, vediamo. Allora... Perché sei arrogante, presuntuoso, maschilista, violento, egoista, non te ne frega niente degli altri, pensi solo a te stessa, a quei capelli di merda che ti ritrovi. Poi vediamo, sei maschilista? Maschilista? Eh, te lo ridico. Che cazzo ti ridi? Oh, niente, scusa.